Il viale delle dune a San Leone tra qualche anno potrebbe diventare un lungo canale navigabile. Questo è il reale rischio che si corre a causa del preoccupante fenomeno dell'erosione delle coste, che secondo gli studi effettuati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, negli ultimi 50 anni in Italia, oltre il 45% delle coste denominate basse, come quella grigentina, ha subito un arretramento medio di 25 metri. Il tratto di mare da noi visionato è quello della terza spiaggia della frazione balneare agrigentina e considerando le dimensioni dell'Arenile, che in quella zona era presente fino a qualche anno fa, le ipotesi degli studiosi potrebbero risultare fin troppo ottimistiche. Negli anni, più volte, si è cercato di trovare una soluzione al problema, attuando le cosiddette opere di ripascimento, ma la scienza insegna che l'erosione, tanto per l'allettramento quanto per l'avanzamento della linea di costa, è un fenomeno naturale e che quindi è il mare stesso a determinare gli spostamenti dei sedimenti e così come sottrae sabbia è in grado successivamente di accumularla, da come si può notare dalle dune che in certi punti si sono formate ai bordi della strada. L'intervento dell'uomo per arginare il fenomeno non sempre ha avuto un esito positivo e a volte addirittura ha aggravato la situazione a causa della costruzione di infrastrutture che hanno interrotto il naturale flusso dei sedimenti. Nella nostra isola sono circa 300 i chilometri di costa soggetta ad erosione ed in relazione alla situazione san Leonina, se la prima mareggiata della stagione è stata in grado di ridurre in palafitta uno dei locali che da oltre un decennio è presente spiaggia. Nel periodo invernale come si evolverà la situazione? La temporanea soluzione potrebbe essere fornita realmente dal milione di metri cubi di sabbia proveniente dai lavori del rigassificatore di Porta Empedocle. Nel frattempo non ci resta che osservare la potenza disarmante delle forze della natura.